Supernova Per fare questo Mixmax Che in questo video riguarderà Rodan, cioè Gasgula Che è uno dei Guardiani Celesti di Falamorbius E il Capitano del Pianeta Magmavia Cioè Arbega Gardon Ehm... Come si chiamava? Aobagir mi sembra In italiano. Direi di passare in questa tecnica Che è una Di quelli del Pianeta Magmavia E vediamo un po' Questo Mixmax come viene Ok Altro Mixmax abbastanza inquietante Cioè vedere Gasgula in questo modo è un'altra cosa Un po' inquietante, cioè guardate qua Che roba Ok, si cambia il colore Della pelle e... Gli occhi, si anche Ok, direi che a questo punto possiamo Anche andare a provare questo Mixmax sul campo Per vedere un po' Ehm... La tecnica che abbiamo passata Che abbiamo passato utilizzata con Gasgula E forse anche la Soul Vediamo un po' Allora Abbiamo passato una tecnica difensiva Quindi direi di andare subito Ok, rubare palla in questo modo Ed ecco qua Infatti la tecnica che abbiamo passato tramite Mixmax Non mi ricordo nemmeno come si chiama questa tecnica in italiano Ma vabbè, sono dettagli Anche questi Ok, andiamo subito in porta Attiviamo la Soul Ok Ok No, non ci credo Mi sono dimenticato Che Obagir è un portiere Non ci posso credere Non ci credo Questa poi... No, è incredibile sta cosa Mamma mia Mi sono dimenticato che Obagir è un portiere Cioè sono andato... Vabbè, lasciamo perdere Ok, facciamo finta che è un Mixmax normale Come quelli che facciamo di solito E abbiamo fatto la battaglia Mi ricordo adesso LBX Vabbè Abbiamo fatto la sfida Per provare il Mixmax Un Mixmax normale Non c'è nessun portiere No, infatti Ok E torniamo subito adesso da Wonderbot Per fare il Mixmax inverso Cioè tra O, Aobagir E Gasgula Ok Lasciamo perdere quello che è successo Adesso Ma vabbè Cioè sono dettagli E facciamo il Mixmax inverso Ormai l'abbiamo fatto Quindi Non fa niente direi Passiamo due tecniche a caso Vabbè Poi questa volta ci è andata anche bene Perché Aobagir Ha una tecnica difensiva Non mi sono accorto neanche Quando ho scelto Quando ho scelto la tecnica Tipo stavo parlando Non ho notato che c'erano due tecniche Di... Di parata Vabbè In ogni caso questo Mixmax È ancora più inquietante di prima Non so Non so dove l'ha preso il nero Cioè no Guardate com'è scuro Non so dove l'ha preso Quel colore così scuro Anche perchè Gasgula Non mi sembrava così Vabbè Ehm Un altro Mixmax inquietante Ripeto Vediamo un po' Vediamo dove l'ha preso quel colore lì Ah forse la pelle No ma non è così scura Dai Non so perchè Boh Vabbè In ogni caso direi che allora Anche per questo video È tutto Io vi ricordo se volete Di iscrivervi al canale Se lo avete già fatto E anche i miei profili Twitter In particolare Facebook Almeno Facebook Perchè è lì che io Posto le notizie Che riguardano il canale Se magari ci sono problemi Oppure in ritardi Con i video Io scrivo sempre lì Ad esempio ieri Ehm Vi ricordo che non Non ho pubblicato video Perchè ero impegnato E ho scritto infatti su Facebook Vi ho avvisato lì Che non avrei pubblicati Vi avviso un po' prima Dell'orario in cui Di solito carico video Perchè almeno Perchè almeno lo sapete già E non state ad aspettare video Per niente Se volete anche seguirmi O inviarmi una richiesta Di amicizia Sul Miiverse della Wii U Trovate il mio Nintendo Network ID In descrizione Insieme anche a tutti gli altri Link Che potete Che potete Aver Aver bisogno Tipo il link Dei miei profili Twitter E Facebook Li trovate sempre In descrizione Ci vediamo allora al prossimo video Ciao a tutti